Ciao ragazzi Che dire Io sono molto 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 preoccupato Soprattutto alla luce di quello che è appena successo Che devo essere onesto non mi aspettavo Nel senso che il Verona ha battuto la Juventus per 2 a 1 Premetto che non ho visto la partita quindi non sono qui per parlarvi della partita Ma sono qui appunto per esprimervi Tutta la mia preoccupazione che ho Per quanto riguarda il derby di domani Ora loro faranno di tutto per vincerla E ce la metteranno tutta Io veramente non so Non so domani come ne usciremo E niente ragazzi Fra l'altro è uscita questo pomeriggio La notizia che si è infortunato Raddekrunic Quindi già siamo pochi E con questo infortunio Siamo ancora meno Meno male che 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 hanno recuperato tutti Fra influenze e infortuni Perché se no Ci toccava Ci toccava andare in campo con la primavera Quindi Quindi niente ragazzi Se prima ero preoccupato Dopo quel Dopo questa cosa che è successa Lo sono ancora di più Perché Domani loro Si Si impegneranno al massimo Basta Ciao ragazzi Sempre forza mina Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi